Ehi, posso portare il telefono di nuovo a Julian e facciamo di nuovo gli scherzi telefonici come quella volta! E' stato divertentissimo! Julian! Julian! Facciamo gli scherzi telefonici ancora! Oh, e ma cosa c'è? Gli scherzi telefonici? No! Lo sai che non possiamo? Lo sai com'è andata l'ultima volta? Ci hanno visto il numero e siamo andati nei guai! Oh, è vero! Ma io vorrei fare qualcosa di nuovo così divertente! Col telefono non possiamo più! Ma non c'è un altro modo? Eh, no! Perché sai che la mamma ci aveva sgredato tantissimo l'ultima volta! Di sicuro se ci becca un'altra volta ci mette arrosto! Quindi il telefono lo rimettiamo via! Però mi è venuta un'altra idea! Ehi, voi! Cosa state facendo col telefono in mano? Di nuovo gli scherzi telefonici? No, mamma! Ma perché pensi sempre male? Insomma, non siamo sempre così! E poi, dall'ultima volta abbiamo imparato la lezione! Volevo chiederti, possiamo andare fuori io e Demma un'oretta al massimo? Non tanto! Fuori? Ma certo che sì! Non ho nulla in contrario! Certo! Un'oretta! Poi è pronto il pranzo, mi raccomando! Ok, mamma! Perfetto! Allora ci vediamo tra un'oretta! Va bene! Stai attento a tua sorella, mi raccomando! Sì, come al solito, lo so! Va bene! Ciao, ciao! Ciao, ragazzi! Divertitevi allora, eh! E state nei paraggi, mi raccomando! Ma Ioia, non ho capito! Cosa facciamo qui davanti a questa casa? Allora, Emma, oggi ti insegnerò un'altra cosa divertentissima! Non possiamo fare gli scherzi telefonici, è vero? Ma possiamo fare gli scherzi porta a porta! Cosa vuol dire scherzo porta a porta? Vuol dire che noi suoneremo i campanelli di tutte le case e poi scapperemo! Praticamente questo devi fare, no? Suoniamo e poi scappiamo velocissimo, velocissimo, velocissimo! Prima che la gente possa venire alla porta e vederci! Così non ci vede nessuno, capito? Ma cosa diremo alle persone che vengono fuori e ci vedono? Perché abbiamo suonato? No, Emma, non capisci niente! Noi suoniamo e poi scappiamo subito! Prima che la gente risponda, capisci? Ci mettiamo in un angolino, ci nascondiamo e guardiamo la loro reazione, in modo che loro però non ci possano vedere, capito? Dai, Emma, ora suono sul serio, eh? Mi raccomando, appena suono scappa in tutte le direzioni che vuoi, ma scappa e nasconditi! Ok, ok, ho capito, mi sembra divertente! Proviamo! Ok, ora suona davvero, eh? Oh, scappa, scappa, scappa! Emma, veloce, scappa! Emma, cosa stai facendo l'impalata? Scappa! Ma io non capisco dove... Emma, scappa subito, subito! Corri! Ok, ok, non così veloce, non ce la faccio! Corri, corri! Vieni qua, dai! Ok, siamo salvi! Ora vediamo come reagisce! Vediamo! Eccola, eccola! La vedi? Sì! Chi è? Beh, chi è? C'è nessuno? Che strano, ho sentito il campanello, ne sono sicura! Però... Non vedi quanto è divertente, Emma! Pensano che sia un fantasma! Vabbè, forse me lo sono immaginata, fa lo stesso! Hai capito, Emma, come funziona? Sì, ma... Pensavo dovessi suonare io, è per quello che sono rimasta ferma! Emma, te l'avevo detto, dai! Allora, la prossima la fai tu, ok? Va bene, sì, sono pronta! Mi piace questo gioco! Ehi, voi, avete suonato per caso? Uo, scappa, Emma! Forte! Ok, ora ci siamo, tocca a te! Devi fare... Mi raccomando, suoni e scappi subito! Non è che rimani l'impalata, Emma, hai capito? Cioè, se rimani l'impalata ti scoprono... Va bene, sì, ho capito, adesso ho capito! Allora, sei pronta? Proviamo a questa? Ok? Sì, dai, ok! Bene, allora, posizionati dal campanello, ci arrivi? Sì, sì, ce la faccio! Suono, eh? Sì, suono e poi scappa, dai! Ok, suono! Dai! Scappa, Emma, scappa, scappa, scappa! Veloce, veloce, veloce! Calma, levate, dai! Ehi, voi, avete suonato per caso? Oh no, ma da dove è uscita? Non dalla porta principale! Scappa! Fanno gli scherzi telefonici anch'io alla loro età! Beh, in realtà facevo sì quelle porta a porta. Oh cavolo, per fortuna, non ci hai seguito! Non me l'aspettavo questa, in tanti anni di carriera non mi è mai capitato! Beh, ora abbiamo l'ultima casa, ok? Ti faccio vedere come fa un vero professionista! Ah, qua non c'è il campanello però, come si fa? Che strano! Julian, mi raccomando, puoi scappa gambe levate! Ma sì, Emma, te l'ho insegnato io, certo che so! Come fare! Vabbè, vorrà dire che busserò! Oh, scappa, scappa, scappa! Julian, ha già aperto la porta dietro di te! C'è qualcuno, scappa! Ma come? Non è possibile, ho appena suonato! Julian, scappa! Ma chi è? Chi è? Di nuovo voi! È Molly! Molly, ma cosa ci fai qui tu? Strega dei miei stivali, aiuto! Io non sono una strega! Ja, ja, ja! Escappate! Aaaaa! 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 Grazie.